buonasera a tutte allora ecco qui uno dei miei famosi video di sera in cui non si sa bene com'è la luce siccome oggi ho girato il video per il basic eye ossia un trucco da giorno base stasera volevo farvi vedere un po' com'è il mio trucco da sera l'introduzione è velocissima mi hanno appena suonato a città ciao divertitevi facendo una base cremosa sull'occhio in questo caso la urban decay primer potion poi applico un colore marrone chiaro glitterato tendente al grigio in realtà nell'angolo interno dell'occhio e fino a metà della palpebra mobile in realtà su tutta la palpebra mobile a questo punto con un pennello a pennarello e un colore marrone matt molto pigmentato traccio la mia classica V e poi con un pennello tondo sfumo fino a che i due colori non risultino assolutamente malgramati come in questo caso a questo punto prendo la mia matita nera long lasting della essence e la do dentro l'occhio sotto e sopra a questo punto traccio una linea sopra la linea delle ciglia per niente precisa sempre con la mia matita nera assicuratevi di scegliere una matita nera molto morbida ora con il pennello a pennarello sfumate la riga che avete appena tracciato sia verso l'esterno dell'occhio quindi verso la parte più scura che verso l'apice interno dell'occhio continuate a sfumare finché non avrete il classico effetto smoky ora sempre con il pennello a pennarello e un ombretto nero matt molto pigmentato ripassate la buca che avete in precedenza tracciato con il marrone e sfumatela con un pennello appunto arrotondato sembrano le forbici dell'albero azzurro a punta arrotondata sfumiamo fino a non avere un'amalgamazione di colori soddisfacente qui sto correggendo malamente con le dita perché non ho voglia di tirare fuori la mia spugnetta comunque ha funzionato quindi non ci lamentiamo ora riprendiamo il colore iniziare quello chiaro con i brillantini e riapplichiamolo fino a metà della palpebra mobile adesso con un pennello a pennarello tracciamo con il marrone matte molto pigmentato che abbiamo usato per la prima V la linea inferiore della palpebra quindi sotto la linea inferiore delle ciglia in modo tale da dare il classico effetto appunto smoky lo ripasso anche dall'altra parte perché mi sembra che sia andato via a questo punto mi rimetto la matita nera dentro l'occhio perché a forza di fare tutti questi passaggi sicuro se ne andate ora uso il mascara della L'Oreal Explosion e lo applico sulle ciglia questo applicatore particolare consente di allungare e infoltire al tempo stesso è un mascara che costa abbastanza però rende anche moltissimo adesso abbiamo finito gli occhi ci diamo la sistemata ai capelli conveniente e basta truccati ok ora sulla base asciutta per labbra della Benefit che mi sono data in precedenza passo il Minty Limp Gloss della Elf colore Miami e lo stendo stando attento a non trascinarmi dietro la base appunto ora dalla mia palette per lo smokey eye prendo un blush rosa un pennello da blush e lo applico sulle gote con quest'ultimo tocco il trucco da sera classico è finito spero che vi sia piaciuto che riusciate a farlo e un bacio grande che riusciate a farlo e un bacio grande che riusciate a farlo che riusciate a farlo